Rezzo Walter Schicker, un applauso al signor Schicker, grazie e ricordiamo che la manifestazione può essere sempre vista su animalnews.tv e andiamo e partiamo con un fracco ungherese Isla, Baimaraner, Setter inglese, bianco arancio Setter Gordon, Setter irlandese, spinone italiano Eccoli qua, un applauso ai cani del settimo gruppo, non sono tantissimi oggi ma credo che la qualità ci sia Quindi il signor Schicker magari ci dirà subito poi la classifica perché sono cinque E sono un Bisla, un Bisla che è un fracco ungherese, cane da ferma continentale Un altro cane da ferma continentale Che è il Weimaraner, un Setter inglese, lo vedete nel suo pelo, lungo pelo, frangiato, color bianco arancio Un altro Setter che è il più grande tra tutti i Setter, il nero foccato, il Setter Gordon E un Setter irlandese, detto anche il Rosso Questi sono i tre soggetti che il dottor Schicker ha deciso di tenere sul podio E che verranno premiati dal segretario generale della provincia di Arezzo, dottor Chianucci Che viene qui con noi, grazie Ecco il Weimaraner insieme alla Handler Che prima ho chiamato Lady Gaga, ma lei mi ha detto che le sembra di assomigliare di più a Crudeglia de Monts Visto la capigliatura, ma dato che Crudeglia de Monts si mangiava i damati Noi la preferiamo come Lady Gaga Ecco il dottor Chianucci che va al podio ad accogliere i vincitori Quindi abbiamo un Weimaraner, un Setter inglese, eccolo il movimento Se volete fare il tifo potete farlo, tanto il giudice non sarà influenzato dal tifo Perché ha una visione completamente tecnica il giudice Questo è bene chiarirlo, non è che fa un lavoro diciamo così per diporto L'atteggiamento professionale dei giudici è totalmente tecnico e professionale Pensare che per diventare giudici in Italia non bastano dieci anni per pensare di diventare giudici Bisogna essere allevatori, esporre e far vincere i propri cani Quindi esporre grandi cani e poi fare corsi di formazione, corsi di aggiornamento e esami organizzati dal legge Quindi è veramente molto faticoso Grazie al signor Schieker E accidenti ha sempre fatto il secondo oggi Adesso fa il terzo Spinone italiano Terzo posto Però una cosa me la dovete lasciar dire adesso che non è più in competizione Volevo dirvi che questo cane che ha fatto terzo oggi alla mondiale di Parigi Lo scorso luglio 35.000 cani, oggi sono 2.000 C'erano 35.000 Questo signor cane italiano ha vinto il settimo raggruppamento Lo possiamo dire e gli facciamo un applauso Grazie Una razza italiana Una razza italiana che vince un raggruppamento a Parigi Che vogliamo fare? Insomma Ok Secondo posto E dicendovi secondo posto capirete subito Perché Crudeglia salterà dalla gioia Secondo posto Settere inglese Vince il Weimaraner Questo tifo è bellissimo Vi ringrazio questo tifo Perché vi assicuro che è durissimo star qui due giorni e sporre cani per 8 ore al giorno Per cui per gli espositori, i giudici, gli stessi cani Questo è un gran piacere Spinone Settere inglese Vince il Weimaraner Forse 5G L'autunità La córka Pirate